Musica Bentornati nella mia cucina Oggi vi presento un'altra ricetta Molto semplice Che serve per utilizzare I bianchi degli uovi avanzati Insieme a me avrò Costantino Limpelato E Margherita Che è in classe con Simone Adesso iniziamo Gli ingredienti sono 100 grammi di Albumeruovo 100 grammi di zucchero 15 grammi Di caffè solubile E 100 grammi di zucchero abito Iniziamo con la ricetta Prendiamo 200 albumi Guardate che devo pesarli Li mettiamo nella nostra fantastica planetaria Ok Li mettiamo Insieme allo zucchero E più cose costante E buttate anche il caffè Il concetto è quello E lo mettiamo A montare Nella planetaria Cina è lì Cosa devi? Ci aggiungiamo a mano lo zucchero a velo, ok ho tenuto il composto, lo mettiamo in un sac a poche e lo mettiamo nella teglia e creiamo dei cestigli. Uno, due, tre, vai, apri il sac a poche e lo mettiamo qua. Come lo chiede? Dai, forza! Ci viene 600 cestini, venga. Ok, e ora… Allora, vediamo. Eccolo tutte. Eccolo tutte. e adesso le nostre medichie vanno in forno a 100 gradi per 3 ore e la ricetta è finita buon appetito buon appetito se serve la parte